Comunicazione intesa come come comunicare bene in modo che tuo figlio ti ascolti. Questo è il capitolo che faremo in questo momento, parleremo di comunicazione. In realtà stiamo parlando di comunicazione da ieri, da quando abbiamo iniziato, perché è tutta comunicazione. Dobbiamo però in questo momento parlare nello specifico del modo più efficace di comunicare e quindi di quelle che sono le regole della comunicazione efficace. Ci sono tre segreti per comunicare in maniera efficace e sono tre segreti importantissimi perché se si seguono la comunicazione finisce bene. Quindi riusciamo a comunicare bene, riusciamo a farci ascoltare e riusciamo anche a farci dire sì dal nostro interlocutore. Quella cosa che tanto desideriamo noi mamme e anche i papà, ma addirittura anche fra adulti, quindi fra partner, fra genitori o proprio il desiderio di ti dico una cosa, ti prego dimmi di sì perché questa cosa va fatta in questo momento. Mi viene in mente per esempio i momenti in cui è molto tardi la mattina, dobbiamo andare al lavoro e i figli puntualmente si sognano qualcosa tale per cui ti inchiodano a casa. Allora lì è il momento di inventarsi veramente qualcosa, io di solito mi invento il sacco di patate, cioè a un certo punto prendo mia figlia come se fosse un sacco, ci gioco un po' su per farla uscire fuori di casa perché mi rendo conto che in quel momento l'unico modo è portarla via giocando. Altrimenti con la razionalità, con i discorsi, forza sbrigati la mamma un appuntamento, mi stanno aspettando e tutte queste cose qui non ascolta, non passa perché la comunicazione razionale non appartiene al mondo dei bambini. Quali sono i tre segreti della comunicazione? Sono tre tappe fondamentali da seguire, quindi step 1, step 2, step 3. Lo step 1 è questo, è la capacità di creare rapport con il nostro interlocutore, cioè la capacità di connettersi con l'altra persona, è la reciprocità, è la fiducia ed è uno stato di empatia, quindi torniamo al primo punto di cui abbiamo parlato ieri, che si crea attraverso il ricalco. E il ricalco è il secondo punto. Ricalco è entrare nei modelli e negli schemi di riferimento dell'altro, adattandosi al suo linguaggio, alle sue convinzioni, ai suoi umori, al suo stato d'animo, alla percezione di quel momento. Cosa sta accadendo in quel momento in mio figlio, nel mio interlocutore? Cosa gira nella sua testa? Quali pensieri si stanno verificando? Se io mi allineo a quei pensieri ho molta più facilità comunicativa. E il terzo step si chiama guida. La guida è fare in modo che l'altro ci segua, cioè faccia quello che desideriamo, aiutarlo a gestire l'emozione ed è possibile solo dopo aver creato rapport e aver ricalcato. Allora, spieghiamolo con degli esempi, così lo comprendiamo facilmente. Prima di tutto, dov'è il grande errore che molti di noi genitori commettono con i propri figli, ma non solo, anche con i partner? Pretendiamo di guidare, terzo punto, senza aver ricalcato e creato rapport. Cioè andiamo direttamente in guida della persona, gli diciamo va fatto così, bisogna fare così, questo è ciò che è giusto ora, questo è necessario in questo momento. E una guida, cioè io sono l'adulto, so cos'è bene fare in questo momento, tu bambino devi per favore seguirmi, perché è necessario fare questa cosa proprio in questo momento. La questione è che la maggior parte delle volte i bambini ci dicono no, non lo faccio, non voglio, non mi va, voglio fare altro, non è il momento, mamma lasciami stare, voglio giocare ancora un po', non è il momento dei compiti, bla bla bla. Cosa succede? Che se ci osserviamo e capiamo che in quel momento abbiamo solo guidato, possiamo da oggi fare un passo indietro e lavorare sul ricalco e sulla guida. Cioè evitare di ripetergli nuovamente quello che va fatto e comprendere pienamente il suo stato emotivo. Ah capisco, puoi giocare ancora un po', immagino che sia difficile in questo momento lasciare tutti i tuoi giochi, guarda come sono belli. Anch'io non vorrei lasciarli in questo momento, è troppo divertente quello che stai facendo. Proviamo a riprenderli più tardi così adesso possiamo fare quest'altra cosa? È già una comunicazione diversa, cioè il bambino si sente compreso, accettato, rispettato. E ricordiamoci che l'empatia significa rispettare l'altro perché se io mi sento rispettato sono più portato a fare quello che mi chiedi e a comprendere che quello che mi chiedi è necessario. Ieri dicevo i bambini educati con empatia sono meno capricciosi ed è verissimo, sono più favorevoli all'armonia, alla serenità, ascoltano di più. Perché? Perché sanno di non essere privati della loro libertà, sanno di avere spazio di movimento, sanno di poter fare molte cose, di avere a che fare con molte esperienze. Quindi non si sentono repressi, chiusi o bloccati nella loro volontà di esprimere e di esplorare il mondo e quindi sono più portati ad ascoltarci e a fare quello che va fatto. In questo momento bisogna fare questo, dopo poi faremo quest'altro. Non è no, non si fa appunto, devi fare come dico io, è diverso come comunicazione. Vediamolo con un esempio, ve l'ho scritto così capiamo esattamente i passaggi. Rapport, ricalco e guida. Allora, solo guida, questo è un esempio di comunicazione inefficace. Solo guida, cioè quella nella quale spesso incappiamo. Mamma, è morto il pesce rosso. Ah, è durato anche troppo, quei pesci muoiono tutti. Ma mamma, sono così triste. E ora? Che vuoi fare figlio mio? Cerca di non pensarci, è solo un pesce, dai. Il bambino piange. Dai, non piangere su, ne compriamo un altro. Allora, cosa faccio qui? Cerco in maniera positiva, il genitore positivo, che tenta di evitare che il bambino soffra. No? Lo facciamo quasi sempre. Cerchiamo di evitare che i nostri figli siano, incappino nella sofferenza, cadano nel dolore. Perché vogliamo evitare che provino dolore. In realtà, questo tipo di frustrazione, che è una cosa assolutamente normale, va sperimentata e va provata dai bambini, perché devono imparare ad uscirne. Quindi, non dovremmo proteggerli e metterli sotto una campana di vetro per evitare che soffrano. Piuttosto, dobbiamo prenderli per mano e accompagnarli in questo dolore, comprendendo pienamente che la perdita di un pesce rosso è una cosa, può essere una cosa veramente molto importante per un bambino. Come potrebbe essere per noi la perdita di un altro animale domestico a cui teniamo molto. E' un amico per loro, quindi di fatto hanno perso un amico. E' una cosa veramente molto, molto importante. Lei tenta di maniera positiva di uscirne, a un certo punto però non ce la fa, perde di mano la situazione e il bambino inizia a piangere, a piangere, a piangere e diventa inconsolabile. Diventa inconsolabile e mamma dice, ok, tanto si trovano ovunque, ne compriamo un altro. Allora, a mio avviso, quindi dal mio punto di vista, fare una cosa del genere significa trasferire al bambino il valore che un animale, ma anche un amico, è una cosa facilmente sostituibile, velocemente sostituibile, che se ci riflettiamo non è che sia proprio un valore così, come dire, positivo, no? Il bambino sta soffrendo in quel momento ed è giusto che la mamma o il papà o la maestra o l'educatore lo accompagnino in questa sofferenza, comprendendola, quindi ricalcando il suo dolore. Prima di tutto, ricalco è in questo caso un ricalco delle emozioni, poi si possono ricalcare tante cose, si può ricalcare la postura di una persona, si possono ricalcare delle parole, quindi riprendere le parole che lui ha detto. In questo caso proprio si tratta di ricalcare un'emozione e osservare come il bambino reagisce in maniera diversa quando c'è il ricalco e quindi il rapport, cioè entro in un rapporto con te di fiducia, di comprensione e di empatia. Vediamo cosa succede. Non può esistere una guida senza rapport e ricalco. Non puoi non tener conto delle sue emozioni. Questo è il senso. Prima di dargli un insegnamento e soprattutto ricordiamoci che quando c'è l'onda emotiva, quando il bambino è nel picco massimo delle emozioni, non dobbiamo dare insegnamenti in quel momento, perché il bambino non li percepisce. Ha solo diritto di viversi le sue emozioni. Che siano rabbia, che siano paura, che sia frustrazione, deve prima finire l'onda emotiva e poi possiamo subito dopo dargli un insegnamento e quindi nutrire quella parte razionale a cui teniamo così tanto. più quali per agiletto che ci sono riasla dispostante. 38 dias di soltanto, sonoastre da lavandola, che fa più, più una bela, più e comunque non c'è più troppo. Permakerla un mondo, io penso che non vengare, più perchè sia nelle importanti, Grazie a tutti.